Ugo e le pillole spaziali, i canali HD su TVSAT. Ugo è un camaleonte e, come tutti i camaleonti, ama cambiare. Ugo adora guardare la TV in modo perfetto e preferisce i canali in HD. Piero, il camaleonte in bianco e nero, non sa che con un decoder TVSAT classic può vedere in HD i suoi canali preferiti. 9 e TV8 in HD, RaiMovie e Rai4 in HD, il 20 e il nuovo 27 di Mediaset. Piero non può credere ai suoi occhi, indipendenti. Ugo consiglia anche a te di fare come Piero. Prendi il kit con il decoder TVSAT classic e vedi in HD i tuoi canali preferiti. Scegli il digitale spaziale.